Il Festival Internazionale di Chitarra che si tiene a Gandino fra il 16 e il 18 settembre è un evento che sicuramente caratterizza il programma di Gandino e delle Cinque Terre. Un evento organizzato innanzitutto dalla Proloco di Gandino, sempre dinamica, sempre pronta a cogliere le opportunità che si creano per il territorio, ma che gode soprattutto anche della consulenza artistica di GeoMusic, di quel Gigi Bresciani, che negli ultimi 30 anni ha organizzato qualcosa come 5.000 concerti e che sicuramente possiamo annoverare fra i mostri sacri di questo genere artistico e soprattutto organizzativo. Un'organizzazione fattiva che porterà le chitarre a Gandino un poco ovunque. Infatti non si tratta di un festival in senso classico con concerti che ovviamente ci saranno e che richiameranno a Gandino i maggiori virtuosi della chitarra provenienti da tutte le parti d'Europa e anche del mondo, visto che numerosi saranno i protagonisti d'oltreoceano, ma che sarà, come dicevo, un festival che coinvolgerà l'intero abitato, l'intero centro storico, l'intera comunità gandinese. Infatti ai tre concerti che si tengono nella cornice davvero suggestiva dell'antico chiostro di Santa Maria ad Ruviales, nella zona della Casa di Riposo, quello che era un antico convento e monastero francescano, si terranno anche degli eventi che punteggeranno il centro storico. Avremo quindi degli showcases, dei piccoli concerti all'interno dei ristoranti, all'interno dei negozi, all'interno di strutture storiche come quella del Museo della Basilica, ma anche recentemente riscoperte come quella dell'antica torre di Foppa. Un modo per poter diffondere sul territorio la cultura, la conoscenza musicale, proprio perché nel 2011 Gandino è anche protagonista dell'anno della musica e dei suonatori. Ci saranno anche proposte di tipo gastronomico, i ristoranti, i bar e i locali del paese proporranno aperitivi e menu a tema proprio legati alla chitarra, quindi non mancheranno per esempio gli spaghetti alla chitarra o perché no il menu dei chitarristi. Evidentemente al centro del programma ci sono i concerti serali che già citavo al Chiostro, che prendono il via venerdì 16 settembre con il concerto di un virtuoso francese che sicuramente è fra i massimi esponenti mondiali della chitarra acustica, parliamo di Pierre Ben-Susan, ma avremo anche Karim Baggili che è un altro chitarrista davvero di grande nome che si esibirà sabato sera e nel caso di Baggili qui parliamo di un artista che proviene dal Belgio, mentre invece domenica sarà Alex Degrassi che proviene dagli Stati Uniti. Ma davvero tutti gli eventi saranno punteggiati da grandi virtuosi, ci saranno i massimi esponenti anche della scuola italiana, parliamo di Andrea Castelfranato che terrà anche una lezione concerto con i ragazzi delle scuole medie, oppure parleremo anche di Giovanni Parimbelli che terrà nel Salone della Valle una mostra sugli antichi strumenti e su quella che è stata un po' la storia della chitarra. Non possiamo non ricordare infine anche Giorgio Cordini che davvero è stato uno dei virtuosi italiani, lo è ancora evidentemente con la sua orchestra apocrypha che si esibirà all'interno del Museo della Basilica, ricordiamo Cordini per tanti anni accompagnatore chitarrista di quel grande poeta della musica che fu Fabrizio De Andrè. Quindi davvero un nuovo appuntamento che caratterizza Gandino, caratterizza il suo calendario e i suoi eventi, sempre di alto livello, al di là di qualcuno che forse per invidia o perché no, anche con un poco di malcelato intento dispregiativo, voglia dare alle cinque terre etichette che non si confanno. C'è voglia di fare, c'è voglia di ascoltare, c'è voglia soprattutto di divertirsi e la musica in questo è sicuramente la miglior medicina.